secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie i nomi delle foto partendo ovviamente da sinistra e nella prima fila in alto sono Roberto Fergol, Andrea Saridil, seguiamo subito con Luca Firfirfil e poi abbiamo ovviamente i tre portieri ragazzi Mauro Marcolto, Donnarumma, Gabriele Sanfartel, poi c'è Giacomo Giacomi non sappiamo bene perché l'abbiano chiamato così completa la terza fila da destra Gianluca Straforkel, Maurizio Pirchili e Roberto Solfi come si dice perché? Brutale perché ho appena finito di mangiare quindi è stato veramente una cosa super super fast ok datemi un secondo buonasera Siki buonasera Y, let's go oggi non c'era quasi un cazzo di nessuno almeno ti diverti in modo salutare cazzo non facendo le minchiate sulle tomba ci esce a cena ci offri qualcosa aspetta 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 piano, piano, piano piano, piano piano c'è il signor pizzo che la saluta signor pizzo e la saluta con un bel con un bel pollicione poter fare una domanda no vorrei farà turchia assolutamente e attenzione vai ragazzi vai piano 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 perché viene ributtata verso l'alto la palla l'italia torna che rimane 1v1 vai 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 e attenzione su spinazzola diamo spinazzola va a riportarla chiellini la porta di nuovo al giocatore si allargano dentro ed è un cazzo di autogol per l'italia let's go autogol ma chi se ne frega autogolo gol bene così si festeggia comunque let's go acchiappatevi questi ragazzoni bomba sbombardiamole sbombardiamole sbombardiamo dai che ne sbombardiamo let's go datemi un secondo che mi devo ricordare piano 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 ciapacchiga mi ha fatto bisogna andare sui corridori corricioni ciao grazie bello andiamo no ma no non ho fatto ma no ma no ma non ho fatto mi cazzo eh mi cazzo mi cazzo anche io o mi cazzo ragazzi mi cazzo vado 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 su bondare hai tu mi cazzo e tu mi cazzo ieri raga non mi ero fatto il mini ho capito cazzo ma va bene sono un pirla applausi al pietro al settantottesimo mamma mia mamma mia ero italia io pizze mi sto cagando addosso acqua su 15 se ne fa una troia se ne fa un altro noi oggi abbiamo lavorato gratis andiamo si lo dico noi siamo in rosso andiamo siamo in rosso grazie damiano grazie peppe per l'amor di dio mi sto cagando addosso falliti del cazzo che dio caro come si chiamano sti coglioni misterioso misterioso la puttana di tua madre quel coglione di tuo padre tua nonna tua zia è tutta buttana famiglia tua manco fanno un mio stipendio figlio di puttana fallito rosica merda rosica figlio di puttana rosica e balla su sto cazzo alle sottolineatura zucca secondo io ho alle 69 io ho subito grande alle grazie mille per il secondo mese insieme let's go grazie mille per il secondo me Grazie.